Si chiama Energy Industry Specialist e è rivolto appunto a formare una figura professionale centrata sull'energia, sulla sostenibilità, un energy manager che in senso trasversale può contribuire alla gestione delle imprese a retine, che si tratti di industria orafa, industria meccanica o elettronica. La fondazione ITS Energia ed Ambiente propone così un nuovo corso ad alta specializzazione tecnica e tecnologica post diploma nel capoluogo a Eretino. L'obiettivo è infatti quello di formare figure professionali altamente qualificate con competenze innovative e tecnologiche per la sostenibilità energetica dell'industria 5.0. Una figura specializzata di cui oggi c'è bisogno in tutte le aziende perché il tema energetico è rilevantissimo, non solo e non tanto per i consumi, per l'efficienza ma anche per la tutela dell'ambiente. È un biennio in cui ci si forma su dei corsi progettati dalle stesse aziende, quindi la formazione è offerta gratuitamente per due anni svolgendo una parte di aula, di lezioni classiche, una parte di laboratori e una parte di esperienza in azienda. Il 90% dei nostri ragazzi trovano un posto di lavoro e si affermano professionalmente. Siccome la tecnologia è molto rapida, ha un processo di cambiamento e di obsolescenza velocissimo, richiede quindi all'uscita dalla scuola un percorso formativo tipo ITS che ti permette di arrivare quantomeno preparato come metodologie, come informazioni di base, a un percorso che poi continuerà in azienda. Quindi è assolutamente necessario che i ragazzi di oggi inizino un percorso di tipo ITS per essere impiegabili. Per il prossimo anno la Fondazione, grazie ad importanti risorse PNRR, ha in programma di realizzare spazi formativi laboratoriali presso le sedie aziendali. Ci aspettiamo chiaramente un positivo sviluppo della cosa che è atteso a giorni per poter dare seguito e quindi poter creare questo polo di formazione sull'idrogeno, quindi dalla sua generazione con collaborazioni e aziende valtiberine, alla sua compressione, al suo trasporto e alla sua decompressione messa in uso. Il prossimo 11 luglio l'Open Day ad Arezzo alla Casa dell'Energia per presentare i programmi e le opportunità dell'offerta formativa in partenza.